bentornati a dinner talks oggi siamo in collegamento da rio de janeiro con luigi spera direttamente dal brasile luigi è un giornalista analista politico vive e lavora lì come corrispondente per l'agenzia di stampa nova e collabora per una serie di quotidiani riviste italiane e brasiliani si occupa di politica economia criminalità organizzata e diritti umani infatti è stato anche autore del libro crimine favelas in generale nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato articoli analisi reportage documentari da afghanistan medio oriente balcania america latina siamo collegati con lui perché in brasile chiaramente la situazione sembra critica ma non sappiamo benissimo come veramente si stanno svolgendo i fatti quindi luigi è in collegamento credo da casa sua vedo un albero alle sue spalle per raccontarci un po come sta andando ciao luigi sì salve a tutti ciao siamo sì mi trovo a casa quella dietro di me una manghiera cioè l'albero del mango che in italiano è a maschile in portoghese a femminile a manga e quindi sì sono da casa mia luogo abbastanza felice dove passare la quarantena senti mi dicevi che potremmo vedere passare delle scimiette giusto sì sì prima erano un attimo prima che iniziassimo il collegamento erano sono passati micos che sarebbero quelle piccoline e poi ci sono c'è anche un'altra razza che si chiamano macacupreago non so in italiano il corrispondente che sono un po più aggressive quindi sono quelle là più diciamo simpatiche e dispettose luigi tu stai vivendo immagino nel quotidiano quello che sta accadendo a rio e voglio chiederti stai stai riuscendo a lavorare se sul campo e se sì in che modo lo stai facendo allora dunque diciamo che nel mio quotidiano il lavoro non è cambiato molto perché da quando insomma sono trasferito qui con questo incarico di corrispondente per l'agenzia nova il mio lavoro è stato fondamentalmente di da casa insomma di home office e questo voglio dire ovviamente nel quotidiano è cambiato perché i rapporti che io avevo personali umani i contatti anche istituzionali con consolato istituzione aziende e varie sono diventati tutti non più diciamo presenziali ma a distanza quindi telefono email e quindi ho perso il contatto umano con il mio con il mio lavoro e questo era già stato una grande un grande cambiamento nella mia vita professionale quello di passare dal campo alla scrivania ovviamente questa situazione si è aggravata tra virgolette nel senso che le quali le imprese hanno chiuso o più o meno i servizi sono in lockdown quantomeno nel settore dei servizi le istituzioni sono ricevono soltanto insomma su internet quindi di fatto il tempo è 100 per cento a casa il tempo di lavoro e volevo chiederti ho visto mi ha colpito molto nei giorni scorsi questa immagine di bolsonaro che era sceso provocatoriamente senza mascherina no facendosi a ringare dalla folla per la strada mi ha ricordato credo qualche scena dei simpson o di qualche film distopico in realtà diciamo credo che l'immagine fosse molto forte però non non ho ben capito come interpretarla mi ha colpito però vorrei diciamo avere la tua chiave di lettura da un punto di vista prettamente comunicativo quella passeggiata quella quella partecipazione alla marcia aveva un profondo senso politico e di comunicazione in buona sostanza per dare un minimo di contesto da quando sono iniziate quando si è diffusa la pandemia in brasile ovviamente diffusa la preoccupazione sono state presi da esempio alcuni paesi che hanno adottato misure di lockdown di quarantena isolamento sociale o quante altre insomma tutte le varie le varie intensità di chiusura sin dal primo momento bolsonaro sia seguendo le indicazioni di quello che è il suo diciamo come dire la sua luce politica cioè donald trump presidente stati uniti sia perseguire quelli che poi sono i suoi suoi sostenitori principali quindi le elite produttive del paese oltre allo zoccolo duro diciamo di fanatici che diciamo destrossi diciamo così che lo supportano lui dal primo momento è stato critico nei confronti alle missioni di lockdown cioè si è allineato alle posizioni più o meno di johnson e trump dicendo che era sostanzialmente una febbricola poi era diventata una piccola influenzuccia e niente di grave ma comunque nulla che motivasse la chiusura o misure che potessero creare danno alla produzione quindi all'economia e da quel momento è iniziato una lotta diciamo che i governatori hanno cominciato ad adottare delle misure cioè dicendo non era possibile lasciare tutto aperto perché avrebbe creato una pandemia ancora più larga insomma gli ospedali non avrebbero non sarebbero riusciti a tenere testa alla domanda insomma e bolsonaro è stato irremovibile sin dall'inizio dicendo che non c'era questa motivazione questo ha creato una guerra di posizione da un lato i governatori in particolare quello di rio de janeiro e quello di san paolo che sono tre candidati a per le prossime elezioni si terrà nel 22 e nel 2022 e quindi si è creata una una lotta diciamo interna con il come dire una posizione anche interessante appunto dei militari militari qui sono un po diciamo così un po come in egitto sono una specie di partito nascosto diciamo così all'interno del governo di bolsonaro e di anche dei governi statali ma comunque del governo ci sono tra le 2500 e le 3000 posizioni governative di sotto governo enti e associazioni agenzie statali che sono guidate da militari per cui il peso militare oltre ad avere vari ministeri di peso e quindi come dire si è creata questa lotta da un lato chi era a favore del lockdown quindi i governatori lui deciso a mantenere la sua posizione e i militari un po qui un po là perché poi se la giocano così quella mani i militari di fatto sono a favore della quarantena in base a quello che hanno fatto capire bolsonaro invece dice qua comando io quindi anche se ci siete voi dietro di me comunque io mantengo la mia la mia indipendenza questa cosa che dice molto interessante perché in realtà leggendo le cronache nazionali e anche le pagine degli esteri no arriva diciamo in qualche modo quasi un bolsonaro delegatore dei poteri principali al corpo militare da una parte ma diciamo che in realtà bolsonaro i militari l'uno non può fare a meno dell'altro perché di fatto i militari già comandano bolsonaro dal canto suo ha perso il sostegno della corte suprema che in brasilia non è diciamo così tanto al di sopra non è tanto suprema diciamo così lui sostanzialmente lui non può fare a meno dei militari senza i militari va a casa i militari non possono fare a meno di lui perché senza di lui poi che fanno Luigi leggevo sul credo sul sole 24 ore di purtroppo di alcune fosse comuni che erano state messe in piedi per far fronte soprattutto nei paesi più poveri immagino dell'entroterra brasiliano che non erano dotati probabilmente di strutture ospedali adeguate o cimiteriali le immagini erano molto forti però chiaramente lo sai meglio di me una foto non sempre può testimoniare la realtà dei fatti quindi volevo chiedere anche a te su questo cosa cosa è circolato guarda le immagini rappresentano benissimo la realtà brasiliana perché le prime che sono uscite sono quelle dello stato di san paolo stato di san paolo rappresenta il 25 per cento degli abitanti del brasile oltre il 30 per cento del pil del brasile per cui è sicuramente il motore lo stato più importante e anche quello che ha i servizi migliori gli ospedali migliori sia pubblici che privati e comunque un'assistenza migliore e nonostante ciò essendo anche lo stato che ha maggior numero di di contagiati e di morti ha dovuto aprire delle forze comuni le immagini più recenti quelle in realtà di stamattina è che le forze comuni sono state aperte nei cimiteri di manaos manaos è la capitale dello stato di amazzonia sappiamo che l'amazzonia è la foresta ma è anche un come dire uno stato del brasile credo che nove stati siano il territorio di nuovi stati sia come dire all'interno della foresta per dirlo per metterla così ovviamente quello di amazzonia quello più grande e manaos è la capitale ha dovuto aprire fosse comuni in realtà due giorni fa hanno dovuto affittare gli ospedali municipali hanno dovuto affittare dei container frigo per stipare insomma per accomodare in un modo più dignitoso possibile le salme e i morti del coronavirus in attesa di poterli come dire seppellire in maniera degna laddove non c'erano più spazi problema è che la quantità questo voglio dire si è detto tanto in italia in europa il problema di questo virus è che appunto che crea un alta mortalità ha un alto numero di contagi gli ospedali non riescono a tenere test immaginate in una zona come quella di manaos dove gli ospedali sono già in particolare in carenza di organico perché come dire la l'elite brasiliana i medici in brasile rappresentano come nel periodo coloniale ancora i figli delle famiglie bene cioè la percentuale di medici neri o provenienti da famiglie povere bassissime per cui il grosso di questi medici sono laureati nelle grandi città non hanno minimamente intenzione di andarsene a vivere a manaos o peggio in una città dell'interno amazzonica per cui le carenze di organiche sono date a questo non a caso durante i governi di giuma rousseff era stato approvato il piano maish magicus che chiamava appunto dall'estero in particolare da cuba medici per poter sopperire queste carenze di organico il piano è saltato adesso è stato ricostruito ma a fatica perché con le polemiche di bolsonaro che diceva che i medici venivano a impiantare il comunismo per cui si è causata si è generata questa carenza di organica la retorica la retorica di bolsonaro perdonami se ti interrompo ma la retorica di bolsonaro quanto ancora ha preso secondo te sulla società brasiliana è purtroppo questo è il problema principale mettiamola così allora l'elite bianca perché purtroppo bisogna fare una questione razziale del caso che si cominci a parlare di razzismo in maniera un po più chiara perché forse qua non è chiaro com'è il concetto la schiavitù non è mai finita del tutto quantomeno nelle nella quotidianità viene riproposta con differenze e con un minimo di democrazia ma la differenza è poca per cui l'elite bianche i produttori e tutta la diciamo il centrodestra diciamo così sono con lui non c'è niente da fare poi c'è uno soccolo duro di che io chiamo fanatici perché il termine più giusto che sono quelli che hanno organizzato la marcia alla quale ha partecipato senza senza mascherina e poi era soltanto l'ultimo ad altri ha partecipato mentre era in in valutazione il suo test sulla contaminazione per cui non è la prima volta sono lui parla tutti i gruppi radicali destra cristiani poi ci sono gli evangelici poi ci sono gli evangelici diciamo che la cui grande percentuale sono con lui poi in realtà diciamo che pare che ho letto che l'ultima l'ultimo sondaggio le 17 persone delle persone che hanno votato a bolsonaro non sono più d'accordo e non lo rivoterebbero il problema è che l'hanno votato 54 quindi togici questi siamo sotto il 40 ma questo non è necessario fare 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 i sondaggi è perché io parlo con tutti ho contatto con tante persone e poi scendo per strada eppure abitando nel quartiere più di sinistra del Brasile comunque voglio dire il la presa sulla popolazione grande quelle manifestazioni che le ho organizzato cioè alla quale lui non ha organizzato alla quale ha partecipato sono state organizzate per chiedere un intervento militare la chiusura del parlamento e la sospensione dei diritti cioè quello che chiedono le persone è l'atto istituzionale numero 5 che sarebbe l'atto istituzionale attraverso il quale la dittatura militare impiantò di fatto la dittatura cioè stop le libertà civili in Brasile loro chiedono questo tra l'altro c'è un minimo di incoerenza che chiedono questo per mantenere il diritto di uscire di casa durante la quarantena pensando che quello che stanno facendo i governatori è dittatoriale però poi invocano la dittatura in Brasile anche la struttura economica la struttura sociale la struttura produttiva agraria è feudalesimo cioè la situazione agraria e produttiva si parlava tanto nei mesi scorsi nei mesi scorsi nel nel mezzo del caos amazzonia roghi che tal lato stanno andando avanti tutte queste operazioni illegali di disboscamento e vario questo ripercorre ripete ci vuol dire ci manda chiaro il concetto che il feudalesimo è ancora vivo nel mondo in Brasile di sicuro e anche la struttura produttiva la struttura sociale la struttura del lavoro è quella e il fatto che per esempio una delle prime misure che siano state prese a livello economico durante la quarantena è stata la possibilità da parte dei datori di lavoro di sospendere i stipendi e contratti ai lavoratori cioè del tipo tu stai lavorando contratto a tempo determinato ok sospendiamo per tre mesi sulla questione delle attività produttive perché toccato un punto importante chiaramente penso che lì ci sia l'altra sacca come dire di consenso forse in opposizione a Bolsonaro in questo contesto è stata data la possibilità alle aziende di continuare a lavorare oppure c'è stato un obbligo di chiusura ad alcune attività produttive. Allora dunque le attività non essenziali sono di fatto sospese quindi molte fabbriche sono chiuse e sono questi imprenditori che stanno spingendo su Bolsonaro per riaprire. Tra l'altro Bolsonaro ha detto una frase e l'ho anche riportata in un articolo che ho scritto di recente ha detto una tale massa di persone umili cito non può starsene a casa cioè il problema è che i poveri non possono stare a casa perché devono andare a lavorare anche se poi si ammalano e muoiono perché la cosa più importante è che loro lavorino e producano non è che loro siano tutelati a punto di vista della salute. Una delle prime misure che sono state fatte è appunto la possibilità per le aziende di accordo con i lavoratori tra virgolette di sospendere i contratti. Io conosco due o tre persone che sono state sospesi cioè dice per tre mesi non lavorerò e non guadagnerò e l'impresa è chiusa ok neanche l'imprenditore guadagna. Senza welfare state, integrazioni o contributi statali? Sono state previste delle forme di integrazione ma parliamo di 150 euro, 600 real o taglio dei salari comunque il salario minimo in Brasile è di 1.049 real, cioè intorno ai 200 qualcosa euro quindi se tu non guadagni poi neanche quelli mi spieghi come sopravvivi e questo è quello che sta succedendo. Al netto della situazione sanitaria, gli ospedali al collasso senza forniture mediche perché il figlio di Bolsonaro ha aperto una crisi diplomatica con la Cina, la Cina non gli ha mandato le mascherine perché così è andata. Non ci sono strutture, non ci sono ieri l'associazione medica, l'ordine dei medici diciamo così, ha lanciato un nuovo link l'allarme che i medici lavorano senza protezione, gli infermieri lavorano senza protezione, anche i poliziotti, i poverini lavorano senza protezione, non ci sono niente, non ci sono i respiratori, le terapie intensive, il 70% sono degli ospedali privati e sono sature sia quelli privati che quelli pubblici e in mezzo a tutto questo si fa una battaglia politica per aprire, non riaprire, fare, non fare e quella manifestazione, dicevo prima, che è stata fatta a Brasile ha una chiara, come dire, un chiaro messaggio politico di comunicazione di Bolsonaro, cioè a dire questa gente scende per strada a qualsiasi costo per difendermi, questi sono miei e questo è un messaggio che va ai militari in certo modo e ai politici in un altro modo. Quindi questo è il caos che stiamo vivendo che dal punto di vista dello studio della politica e delle dinamiche economiche è estremamente affascinante per me che ho il cervello funzionante al 100% con tutte le mie competenze spremute per cercare di capire e questa è la nostra quotidianità. Il problema è che mi faccio delle domande rispetto all'umanità proprio, qual è il valore della salute, del benessere, della vita per queste persone? È abberrante, il nuovo ministro della sanità... Questa però, diciamo, perdonami, è un po' la contrapposizione che c'è tra chiunque. Adesso nel mondo questa dicotomia, no? Sembra che si stia svelando ancora di più, è quella che forse una volta si poteva dire contraddistingueva l'idea della lotta di classe, no? Ma in questa fase storica c'è chi vede gli altri soffrire e sta male e c'è chi forse dice, beh, andiamo avanti, faccio spallucce. Sono due tipologie di umanità, diciamo, leggendo quello che hai detto, no? Come la vedi? Sì, sì, vabbè, diciamo che questo paese di suo ha una disperata necessità di lotta di classe, nel senso che ci sono ancora una serie di battaglie che devono essere fatte e degli obiettivi che devono essere raggiunti e che al momento non sono stati ancora raggiunti. questa emergenza mette a nudo questa situazione. E ti ripeto, quella frase di Bolsonaro insieme ad altre, la dicono tutti, il nuovo ministro della sanità ti stavo dicendo, ha detto, no, vabbè, ma che le compriamo a fare tutti questi respiratori polmonari una volta che poi finisce l'emergenza, che ce ne facciamo? Quando è stato nominato sono circolate delle sue interviste, lui è un famoso imprenditore, nel senso che ha una serie di cliniche oncologiche private, a Rio de Janeiro in particolare, e lui ha detto che in buona sostanza si ha diffusi queste interviste nelle quali lui sottolinea che tra investire denaro per un anziano che alla fine della sua vita, per farlo, diceva praticamente così, spendo questi soldi per far stare un po' meglio, un anziano che poi comunque deve morire e che c'è altre cose. E invece se uso queste risorse per un giovane, magari lui vive perché ha l'inizio della vita. E con la caratteristica di questo virus, sentire un ministro che parla così, tra l'altro nella sua, diciamo, quando la sua presentazione è ufficiale, insomma è un tantino aberrante, ma non se ne importano nulla. A parte i sostenitori radicali di Bolsonaro, la popolazione, diciamo il votante medio, l'uomo medio che vota Bolsonaro, come reagisce a queste dichiarazioni? Te lo chiedo perché mi viene un po' in mente proprio il linguaggio che nasciva a cavallo delle dittatorie europee nel primo quarto del secolo scorso e mi sono sempre, come dire, domandato come piano piano ci si abituassero a un determinato tipo di linguaggio. Oggi in Brasile sta accadendo lo stesso oppure, diciamo, ci si fa spallucci, diciamo, vabbè, saranno invettive, finiranno lì? No, diciamo che la domanda che ti sei fatto tu, io nei giorni scorsi, a parte aver studiato specificamente i primi internazionali, l'università e il genocidio degli ebrei, mi sono andato a rivedere attraverso documentari e i miei documenti, l'ascesa del nazismo e quindi anche dal punto di vista comunicativo, l'abituarsi. Purtroppo alcune dinamiche sono evidentissime qui. Il problema qua è che il giornalismo moderno, diciamo così, ci ha abituato a dover dare delle risposte immediate e subitane, cioè quando c'è la domanda bisogna esserci una risposta. Il problema è che in Brasile il Bolsonaro non è nato dal nulla. La popolazione brasiliana, alla quale l'offerta di informazione arriva in maniera molto blanda, diciamo la stampa non è particolarmente brillante, sono vittime di mistificazioni, manipolazioni delle informazioni dal 2013, perché dal 2013 che è stato montato, come dire, ad arte uno schema di informazioni false, tra l'altro gestito dai figli di Bolsonaro principalmente, per denigrare il partito dei lavoratori, il PT di Lula e Giuma, per denigrare la presidenza, per denigrare una serie di cose. Per cui se tu, e mi è capitato l'altro giorno, dici a una persona con alta istruzione, imprenditore, persona normale, diciamo così, non il fanatico diciamo evangelico, pseudo fascista di turno, e dice vabbè ma, scusa ma Bolsonaro che ha fatto? E vabbè ma quello che può fare? Poi c'è il Parlamento, come dire, perché la retorica è arrivata che il Parlamento non sta lasciando governare Bolsonaro quando il problema è che non funziona così. La retorica spicciola che diciamo ritrovo spesso all'interno delle analisi nazionali anche dei paesi europei attuali. Ma sì, ma guarda che io feci un articolo per The Intercept con la mia collega Gianaina Cesar, alla fine dell'anno scorso abbiamo intervistato il responsabile spirituale di Bannon, dell'organizzazione di Bannon. A volte, io poi seguendo il livello globale trovo delle cose interessanti, io sento Salvini dire una frase e il giorno dopo, il giorno prima la dice Bolsonaro e poi la dice qualche altro leader dell'Est Europa e poi la dice in modo diverso Trump. Cioè, sto fatto del rosario di Salvini è quello che vediamo qua, perché qua la mattina arriva il gruppo di pastori fuori alla residenza di Bolsonaro e gli fa la preghierina invocando Dio che lo protegga e vai. Non c'è molta differenza. Ovviamente questa cosa trova un po' più di resistenza in Italia perché siamo un po' più secolarizzati. Qua invece il 99% della popolazione si dichiara credente in qualcosa. Per cui, capisci che la presa, qua non ci sono atei, in Brasile praticamente si contano sulle dita di una mano e per cui questo ha una presa molto maggiore. Quindi c'è il poverino Bolsonaro non lo lascia governare il Parlamento, quindi non può fare niente. Allora dobbiamo chiudere il Parlamento per fargli fare. Queste sono delle retoriche, delle mistificazioni che sono state spinte da fake news che sono iniziate nel 2013. Nel 2013 e 14 l'economia brasiliana stava esplodendo, i migliori dati economici erano nel 2014. Se tu chiedi al medio bolsonarista, lui ti dirà che nel 2014 il paese era a pezzi, che non c'erano più soldi per nessuno, che non si guadagnava più, che la disoccupazione stava esplodendo, quando invece la disoccupazione era adesso e al 12 e all'epoca era al 3. Cose false, informazioni distorte o... Però bisognerebbe anche un po' interrogarsi come mai tutte queste informazioni distorte in realtà facciano presa comune su cittadini appartenenti anche a strade culturali diversi, no? Quello che dicevamo prima, alcuni linguaggi si sono tradotti in Brasile come in Italia, come credo a tratti anche in Inghilterra, avendola vissuta per un po' prima e dopo il referendum per la Brexit. Quindi in realtà credo sia un buon momento per analizzare a livello globale, forse questo anche da un punto di vista generale, se vogliamo politico, potrebbe essere un buon segnale per far comprendere in realtà che poi anche nei fascismi tutto il mondo e il paese, quindi magari delle opposizioni un po' più intelligenti a queste modalità che si stanno riproponendo barbaricamente, ovviamente può essere fatta. Parte della narrazione legata al Brasile, almeno personalmente, mi è arrivata da parte anche dei film come, non lo so, Città di Dio, Ciudade Deus, che raccontava di queste favelas in cui il controllo non era gestito dallo Stato, ma da dei soggetti che stavano al limite tra delinquenti comuni, narcotrafficanti e comunque detentori di un controllo popolare. È ancora così? Oppure i film ci hanno raccontato molto male quello che sta succedendo? La complessità del concetto favela è quello che mi ha spinto a scrivere un libro, nel senso che ci vuole molto tempo per dare una risposta organica. Per farla sintetica, la favela è un luogo di eccezione, è un luogo che è sempre stato abbandonato dalle istituzioni, è sempre stato raccontato male e in maniera strumentale e in maniera razzista e in maniera come dire, ingiusta. Anche in occasione del coronavirus questa retorica, questa demagogia non è venuta a meno. Per cui, ah, se succede, se arrivano in favele cari sui casi di coronavirus, ah, che cosa succederà? E invece i residenti della favela, che sono molto migliori di molti esponenti della classe dirigente brasiliana, come al solito, non potendo contare sullo Stato e non potendo contare sulle proprie istituzioni, si sono auto-organizzati. Per cui, molto prima che iniziassero le campagne di sensibilizzazione a usare l'alcol gel, lavarsi le mani, a isolare i, a prendersi cura dei propri anziani, in favele avevano già iniziato. E mi costa molto dire, ed è molto pesante affermarlo, che purtroppo anche i trafficanti si sono dimostrati essere più sensibili e più intelligenti dei politici. Perché i trafficanti hanno sempre cercato il consenso in favele. Questo è strumentale, è criminale e ci sarà sempre. In questa occasione cosa hanno fatto? Sono stati i trafficanti a imporre il coprifuoco, a imporre l'uscita degli anziani, a tenere i bambini, diciamo, in casa. Insomma, una serie di misure da un criminale che ho avuto dei mesi di scorsa settimana, dato avendo molti contatti in favelas, che in una delle favelas di qui della città, i trafficanti avevano mandato, cioè c'è stato un altro caso, dobbiamo stringerci. Quindi la notte non si esce, questo non si fa, i bambini stanno a casa. Insomma, questo però non è soltanto criminale, perché le associazioni dei residenti e gli stessi residenti hanno creato all'interno di alcune favelas delle aree per isolare i malati, delle aree per isolare gli anziani che sono più a rischio ed evitare il contatto. C'è una fitta rete di persone che consegnano la spesa agli anziani e non li fanno uscire di casa. Insomma, la favela che è diventata, che è stata sulla bocca di tutti, soprattutto all'inizio. Ah, se arriva il Covid in favela, che cosa succederà? Moriranno tutti. E invece non moriranno perché esistono da centinaia di anni e continueranno a farlo. Prima di salutarci, volevo ringraziare Difesa d'Autore e Subacala Sonora per aver permesso questo collegamento e in generale gli spettatori di InnerTalks che stanno seguendo questo format un po' atipico, che però entrando nelle case di cittadini residenti all'estero ci permette anche la possibilità di vedere forse delle scimmie dietro ai nostri interlocutori, sicuramente degli alberi che spuntano da una finestra e delle interpretazioni riguardo quello che sta accadendo nel mondo durante il lockdown, il Covid-19. La domanda che vorrei farti guardando gli alberi dietro di te, magari pensando anche che qualche passeggiata te la potrai concedere, cosa pensi di fare nei prossimi 15 giorni? Il lockdown sarà cambiato, però siamo stati abituati a vivere appunto il day by day e già 15 giorni sembra un tempo abbastanza in avanti, quindi sono curioso appunto di chiedere dove ti vedi e cosa pensi di fare. Ho imparato a raccogliere le banane, a prendere i manghi e le papaie dall'albero e quindi probabilmente nei prossimi 15 giorni continuerò a fare questo, insomma stare più a contatto con la natura che tra l'altro ci sta mandando dei messaggi fortissimi in questo periodo. Quello che forse vorrò fare di nuovo al più presto è andare a fare una passeggiata sul lungomare, quello famoso da Cartolina. Non quello di Napoli? Non Mergellina? Eh vabbè, no ma non che sia tanto peggio e anzi, là c'è la radice quindi è differente, però il contatto con la natura me lo tengo stretto per i prossimi 15 giorni e anche spero per i prossimi passi della mia vita perché stando molto a contatto con la natura in questi giorni non potendo uscire fa questo. L'unica cosa che spero è di poter tornare al mio samba perché sono passato in poco più di un mese dalla pista del sambodromo sfilando con una batteria di 300 persone e con una in una scuola di samba che ha portato 3.500 persone sulla veneta ha praticamente ridotto il numero di persone con le quali parlo fisicamente a 3-4. Luigi spero di poterti sapere di nuovo ballante tra qualche settimana allora. Quando pensi invece di ritornare a Napoli? Eh dunque in realtà il il corona il coronavirus ci ha fatto saltare tutti i programmi. Avevo un programma ma non so se riuscirò a mantenerlo e quindi viviamo alla giornata. Vediamo cosa ci dice la natura, il virus e il governo. Sembra un ottimo auspicio sia sulla natura sia sul virus che sul governo. Luigi grazie ancora per essere stato qui con noi ad InnerTalks e a presto. Grazie a presto a voi.